Il Colera ha avuto origine in una zona precisa del globo e da lì si è sparso, si è irradiato anche nelle altre regioni del pianeta. Ha avuto origine nella parte nord orientale del subcontinente indiano, in particolare nell'area del delta del Gange. Nel momento in cui arriva in Europa, anni 30 dell'Ottocento, il Colera ha già una sua piccola storia perché in effetti è stato individuato, scoperto, descritto per la prima volta da un europeo, il naturalista francese Pierre Sonnerat nel 1782. Quindi era già una cinquantina d'anni che si conosceva l'esistenza di questo agente patogeno, anche se non si sapeva bene che cos'era. Si sapeva che c'era, che era presente in quell'area e che determinava la morte appunto delle persone potenzialmente, determinava la malattia e la morte delle persone. Furono veicoli di propagazione le infrastrutture di trasporto dell'epoca che naturalmente erano nella loro parte più avanzata erano le ferrovie e la navigazione che cominciava ad essere a vapore. Quindi le vie ferrate che cominciavano esattamente in quel periodo ad avere, aggiovarsi della trazione termica e anche la navigazione via mare che cominciava a parimenti, aggiovarsi della trazione termica sono state sicuramente veicoli di propagazione più rapida di questa grave infezione rispetto a quanto non avevano potuto utilizzare chiaramente le pandemie mediovali come la peste che viaggiavano a dorso di mulo oppure viaggiavano a cavallo o naturalmente a piedi con le persone che si spostavano nel mondo.